Da parole al vento, la scappata. Senti, Pordino, quando l'altro ieri andai a Bologna, là dove tu sai, c'erano certe bimbe che qui a Pisa in quei posti non s'ennuiste mai. Erano quasi tutte giovanine e avevano certi orpi modellati che avrebbero acchitato anche un sant'uomo di quelli fra i più casti deantati. Basta, ne piglio una così a caso senza nemmen guardarla bene a fondo e mi accodo a lei su per le scale tastandole arrapato nel Bappamonte. Ma quando arrivo su, la guardo in faccia, per poco non mi piglio un coccolone. Era la bimba di Gigi e il Procaccia che stava di rimpetto al mio portone. «Malgrado siano passati ormai dell'anni, mi ravvisò ugualmente, poverina, abbassò il capo e diventò di foo, o porto, lei che era una squadrina. Mi disse che rimasta sola al mondo in quello stato lì, si era trovata per colpa ad un vigliacco bell'imbusto che l'aveva sedotta e poi sfruttata. Sul momento non sapevo cosa fare e rimasi lì come un coglione accanto al letto, con arzoni in mano, sconcertato da quella situazione. Poi, a ripensar su macchiera per bene, a riordar su pacchiera mia mio, mi fece un tuffo e il sangue nelle vene, quel che provai non lo so nemmen io. Mi rivestì in volata e preso il luscio. Lei mi guardò con un po' di esitazione, poi mi fece «Ma come, o che va via? Cioè, al treno, dissi, vado alla stazione. E se ripenso a suoi genitori e a quando con i bimba e i rampiccini, non me ne importa, se così per niente l'altro ieri ciupai dei bei quattrini».